La VN è stata importantissima anche perché la situazione adesso si fa sempre più decisiva. Prima riusciamo a raggiungere la salvezza e prima ci rilassiamo e cerchiamo di puntare altri obiettivi. Io ad oggi ancora non ho parlato con la società e non ci ho pensato perché sono tornato lunedì scorso dall'infortunio e di questa cosa non se ne è parlato. Se ci sarà la possibilità sicuramente si farà. Ti farebbe piacere? Sì, sì, certo, mi trovo bene a te. Le vittorie, i pareggi, i risultati che portano punti creano entusiasmo, ti fanno stare bene. Affronti la settimana in maniera differente e poi quando viene la vittoria ti alleggerisce tutta la settimana. È cambiato che sicuramente siamo molto più attenti nel prendere il gol. Questo è poco mi assicuro perché le cose parlano che quante giorni sono che non prendevamo gol? Due, barra tre, se non erro. Quindi abbiamo lavorato molto come sempre, abbiamo lavorato nella fase difensiva e poi abbiamo avuto la fortuna di fare subito gol che quella sicuramente aiuta tanto perché se sblocchi subito la partita comunque sia ti senti meglio. In campo ci andiamo noi, i primi avversari siamo noi stessi perché se non entriamo con la giusta mentalità, con la giusta carica, con la giusta determinazione è inutile. Se comunque sia un attaccante fa gol, è vero che la difesa non lo deve subire però comunque sia da un impatto differente alle squadre avversarie perché anche loro hanno paura di prendere gol. quindi è sempre un rischio scoprirti, sai che davanti a un attaccante forte non ti scopri come potresti non scoprirti se sei un attaccante forte.